Il golf è un sport elegante, appaga non solo lo sportivo ma anche lo spettatore e poi diciamo che è un po' come il golfista studia, pensa al suo colpo, lo prepara il gioielliere prima di creare pensa alla donna che andrà a indossare l'oggetto Sul lato prodotto l'innovazione è poca perché è importante più la tradizione che l'innovazione anzi tramandare la capacità di fare gioielli come li faceva mio padre, come li faceva mio nonno e come li facevano ancora prima i maestri orafi valenzani Io lo amo questo campo perché sono socio qua, gioco qui, mi alleno, quindi giocare l'open a Milano e in casa è sicuramente un sogno che mi pianta e in casa è sicuramente un sogno che mi pianta Grazie a tutti Grazie a tutti